Continuiamo a parlare di imposte locali, lo facciamo con due rappresentanti comunali, con il sindaco di Pontida Pierguido Vanalli e con il capo delegazione in consiglio comunale a Milano Alessandro Morelli. Pierguido Vanalli, sindaco di Pontida, anche a lei un parere sulla service tax? Secondo lei c'è ancora poca chiarezza? C'è estremamente poca chiarezza, sinceramente a parte l'annuncio non si è capito niente di quello che si vuole fare il governo, l'unica cosa certa è che i comuni saranno di nuovo obbligati a rastrellare soldi per conto dello Stato, tartassando i cittadini e mettendoci la faccia nuovamente, però come questo verrà fatto, come verranno rimodulate l'Imu, la Tars, al momento non c'è ancora niente se non un annuncio. Una parte di questa service tax dovrebbe essere pagata anche dagli affittuari, in questo caso per esempio mi viene in mente un altro problema, l'Imu seconda casa che la pagano i proprietari per le case dati in affitto ad altri, appunto la pagano oggi i proprietari, domani la pagheranno anche gli affittuari o verrà sgravata una parte dei proprietari per essere gravata agli altri, ancora non si sa, però sembra che comunque si andrà verso un aggravamento delle tasse di nuovo. Alessandro Morelli, capogruppo della Lega Nordi in comune a Milano, stiamo andando verso l'autunno e ci sono i rincari anche in città, partire dai trasporti ma non solo, si parla anche di la cosa, la tassa per quanto riguarda le autorizzazioni di utilizzare il suolo pubblico e altri. Una serie di aumenti, compresa l'IRPEF, vedremo, ci sarà un aumento anche su questo, purtroppo questa è la cura a Pisapia, molti milanesi sono stati abbindolati da una campagna elettorale che ha visto premiare appunto la sinistra a Milano, questo è il metodo da sinistra, la sinistra vuole le tasse e le sta mettendo, le sta applicando alla loro politica. Quindi cosa pensate di fare? Innanzitutto faremo una battaglia contro l'aumento del biglietto, c'è già stato, ci sarà ancora, ricordo che Pisapia ha aumentato anche il tema degli abbonamenti per quanto riguarda i mezzi pubblici e questo fa appugni con le sue politiche, da un lato impedisce alle macchine di girare attraverso Area C, ricordo una gabella di 5 euro per entrare in centro, dall'altro aumenta anche i biglietti del tram e gli abbonamenti. Oltre a tutto questo c'è anche la Tares e quindi la responsabilità dell'allora governo Monti e dell'attuale governo PDPDL che colpiscono duramente le attività commerciali, il piccolo commercio, quello che dovrebbe essere ed è l'ossatura di ogni città e che invece attraverso questi strumenti muore.